Siamo? Bentornati in diretta con il nostro format Radio Wine Design, Radio dei Vini Umbri. Con noi oggi Elisabetta Perri, la sommelier dell'azienda Umbra di Montefalco Col Santo, con il vino che ci ha portato Cantaluce 2017. Senti, primissima domanda, come è cominciata l'avventura con Col Santo? Da quanto tempo? Insomma, parlaci un pochino del tuo rapporto con l'azienda. Allora, innanzitutto io vi ringrazio, ringrazio l'Istituto Italiano Design, ringrazio Eliana per avermi invitato, contattato, per averci dato la possibilità di raccontarci, ecco. Sono sempre vetrine importanti. Per quanto riguarda Col Santo, tu sei venuta all'azienda, la conosci, hai tastato il polso della situazione. Io ci arriverò prima o poi. No, noi ti aspettiamo volentieri. È un'azienda che merita. E per me è stato un po' un colpo di fulmine. È stato quello il fatto, nel senso che io ho lavorato per diversi anni per un'altra cantina. Non avevo intenzione di mettere in discussione un po' quello che era già la mia situazione lavorativa. Poi è una storia, un'avventura che è nata da un'amicizia col direttore commerciale. Un'amicizia che è nata per ragioni lavorative. Condividiamo un po' questa passione per il mondo del vino. Lui mi ha invitato a un'azienda, legando all'invito questa richiesta di andare a lavorare per loro. Io in realtà non avevo intenzione, però la visita l'ho fatta. La curiosità. Quando sono arrivata ho tirato il freno a mano, perché tu l'hai vista, la realtà è un biglietto da visita. Impressionante, c'è questo ingresso alla Bolgheri un pochino, perché c'è questo ingresso trionfale con questi cipressi, in duplice fila. È una collina che ha una posizione incantevole, vede il subassio, si spello. Sono tutti filari che circondano interamente la cantina. E' suggestivo già l'ingresso. Poi ho assaggiato i vini, ho conosciuto i titolari e lì non c'è stato niente da fare. È stato proprio colpo di fulmine. Amore, colpo di fulmine. L'ho tirato il freno a mano, assolutamente. Io ho già prenoto allora la visita, visto che dalla descrizione mi ha convinto. Ti ci porto. Porta la macchina fotografica. Senti, però c'è una cosina molto interessante. Io so che effettivamente i proprietari di Col Santo non sono di origini umbre, ma sono legati dissolubilmente al nome Livon, che è un'azienda frulana. Come è nato, come si è sviluppato questo connubio? Sì, dunque, Col Santo in effetti è di proprietà di questa famiglia. Livon Tonino Valneo Livon. Già dai nomi capiamo che tutto abbiamo a che fare, tranne che con personaggi d'Umbria. Siamo al di fuori del confine regionale. Sono di origine frulana e parliamo di Dolenia, del Collio. Quindi si trovano in una zona di confine tra Friuli e Slovenia. Loro iniziano nella metà degli anni 50, in particolare nel 54, con il genitore che è il reale fondatore. I figli hanno ripreso quelle che erano superfici vitate e già portate avanti dai genitori. Nei primi anni 60 già vincono la gran medaglia d'oro del Friuli, quindi già si propongono fin da subito come produttori di qualità. Esatto. Cosa che è meravigliosa, è un pregio da un lato, perché è veramente difficile raggiungere in breve termine un po' quello che sono livelli qualitativi notevoli. Però, d'altra parte, c'è il difetto, nel senso che non devi cedere di un millimetro, perché sono sempre tutti pronti, ti aspettano al varco, quindi non puoi assolutamente abbassare l'asticella. Dopo loro, come tutte le famiglie italiane, particella per particella, vigneto per vigneto, hanno cominciato a ingrandire questa proprietà, arrivando a fondare quelle che sono le tenute l'Ivon. Tant'è che loro hanno 250 ettari di superficie vitata, di cui 200 in Friuli. E all'attivo oggi hanno quattro cantine, quattro realtà, di cui due in Friuli. E poi altri due, invece, parliamo di Italia centrale. E quindi parliamo di Toscana, Radda in Chianti e Umbria. Ed ecco che parliamo di Colzanto. Quindi un grande amore, possiamo dire, per i russi del centro in Italia. Esatto. Il concetto è centrato proprio al punto, perché il Friuli è una terra a tradizione bianchista, a tutti gli effetti, quindi parliamo di una pletora, di un numero impressionante di vitigni autoctoni, soprattutto a bacca bianca. Per quanto riguarda invece la bacca rossa, loro parlano di Pignolo, Schioppettino, di Re Fosco. Poi, per il resto, guardano un po' quello che sono i vitigni internazionali, come Merloca, Bernefranc e Sauvignon. Avevano proprio esigenza, verso la metà degli anni 90, di cominciare a avere a che fare con... Il patrimonio italiano dei russi. Con due principi indiscussi del centro Italia. Quindi parliamo di San Giovese, Sagrantino, ecco perché cominciano ad avere a che fare con queste altre due attività. In Toscana sono un pochino più fortunati, perché in realtà la cantina era già produttiva. Mentre qui a Colsanto devono ricominciare a fare proprio l'impianto. Non c'era nulla lì, era una collina dove erano tutti i campi di grano abbandonati. La strada d'ingresso, quella di cui parlavamo all'inizio, tronfalissima, è stata fatta da loro. Era una mulattiera a tutti gli effetti e la cantina costruita sullo scheletro del granaio. Quindi hanno fatto anche un'opera enorme di investimento e di rivalutazione del territorio. Se non erro è del Settecento questo granaio. La masseria, assolutamente sì, infatti i lavori di ristrutturazione sono stati dilattati, importanti perché immaginate sovrintendenza, beni culturali, chiaramente diventa materiale un po' sensibile, quindi è sempre un pochino più difficile, però finalmente hanno concluso queste... Quindi io li aspetto prima o poi appassionarsi anche a un russo del sud. Esatto, sarebbe il top perché a quel punto è un investimento. A loro le cose le fanno a modino. Beh, allora, prossima apertura a Iannico, Livon. Senti, ma il nome Col Santo effettivamente da... Perché questa scelta? Da dove deriva? Allora, Col Santo è assolutamente un nome di fantasia. Nel senso che la zona è Cantalupo. Siamo a neanche due chilometri e mezzo da... Bravissima Bevagna, dieci minuti da Sisi. Voi dovete sapere che, ecco, forse sono l'unica Umbra, no? Nel parterro oggi. Sì, neanche noi siamo Umbri. Noi Umbri siamo un po' vaccinati per tutto quello che riguarda quello che è il nostro patrimonio artistico, culturale. Quindi quando parlano di Umbria, cuore verde d'Italia, oppure di Umbria come terra di santi, cosa che è effettivamente, perché poi parliamo di San Grantino anche grazie a questo, no? Questo patrimonio genetico che è stato salvato dall'esistenza. Anche con Cenci ne parlavamo l'altra volta. Esattamente. Uno dei frati, insomma. Quando loro sono arrivati ad esplorare un po' quello che è il territorio Umbro alla ricerca di terreni da evitare, studiando un po' quello che erano le giaciture delle potenziali particelle, inizialmente erano interessati più alla collina proprio di Montefalco. Quando arrivano invece, quello che oggi chiamiamo colzanto, a vederla si capisce il volo, perché in cima a questa collina abbiamo una visuale quasi a 180 gradi e vede tutto il Monte Subasio, Assisi, Spello, arriviamo a vedere anche Montefalco e per loro è stato facile pensare al nome Colle e Santo, proprio di fronte alla città dei Santi. Una cosa che a noi fa un po' meno effetto, perché veramente siamo abituati, però un friulano che si ritrova davanti appunto la città di Santa Chiara, San Damiano e San Francesco è già un altro approccio. Molto, molto suggestivo il nome, diciamo semplice ma ad impatto, soprattutto per chi viene da fuori, insomma. Funziona bene, secondo me è costante. Sì, c'è una bella direzione, insomma. Senti, però io so che c'è anche un'altra storia, io direi anche raffinata, dietro l'etichetta dietro il logo Livon, che non posso non farne ceno dato che siamo nel mese di marzo, nel mese della donna. E c'è quindi questo logo tanto particolare che adesso vi faccio vedere. E cosa c'è dietro questo nome? Qual è la storia? Qual è un pochino, diciamo, le controversie che sono nate a seguito di questo logo? Allora, devo dire che loro in famiglia, tutti quanti, da Tonino, Valneo, la moglie, i figli, dei due fratelli, hanno un'attenzione davvero importante per i particolari. Quindi quando dovevano decidere il logo rappresentativo del brand, delle detenute Livon, decidono di avere a che fare con un logo artistico. Ecco perché decidono di prendere quello che vedete, che è la donna lata di Arte. Arte è uno pseudonimo, il nome reale sarebbe Romain de Tirtoff, un artista russo, esatto. Lo pseudonimo prende il nome Arte dalla pronuncia francese delle iniziali, no? R-T-Arte. Artista russo, siamo negli anni venti, quindi uno degli esponenti più poliedrici, più importanti dal punto di vista della diversificazione. dell'espressività artistica, dell'Art Deco, della Parigi degli anni 30 in particolare, è stato pittore, è stato illustratore, grafico, è stato costumista, è stato creatore di costumi teatrali, è stato scenografo, quindi è stato impegnato in diverse... eclettico, è molto eclettico, davvero poliedrico e camaleontico. Ha fatto 200 copertine circa di testate giornalistiche come Cosmopolitan, come Vogue, e diverse opere sue sono ancora tutt'oggi esposte alla Victorian Albert Museum, a Londra, Metropolitan Museum di New York, via dicendo. loro scelgono una, lui negli anni 30 va ad elaborare una collezione di numeri da 0 a 9, questo sarebbe stato il numero 5, che loro prendono, la donna Lata, e lo specchiano. Sì, sì, mi hanno fatto vedere. Quindi specchiano sia la parte superiore del corpo, sia la parte inferiore, in modo tale da ottenere una C, la C di Collio, in modo tale che il logo vada a rappresentare nel mondo non soltanto la famiglia Livon e le aziende Livon, ma anche il Friuli, il Collio, quindi uno degli areali più vocati e più importanti della loro terra d'origine. I friulani sono molto legati al proprio territorio d'origine, in un senso di appartenenza veramente spiccatamente, marcatamente forte. La cosa, magari un aneddoto, molto buffo riguardo al logo, è che quando loro hanno importato verso la fine degli anni Sessanta per la prima volta i loro vini negli Stati Uniti d'America, tutte le pedane, tutti i bancali sono stati bloccati, non sono stati sdoganati proprio per il logo impresso in etichetta, perché la donna Lata di Artè, per quello che era la legislazione degli Stati Uniti, la legislazione statunitense dell'epoca, una cosa del genere, rientrava in una forma di pornografia, quindi l'importatore si è dovuto munire di penna, o meglio di pennarello, andare a disegnare un bustier, un reggipetto per dirla in modo scravattato, per coprire le grazie o le vergogne della donna Lata. E questa è una notizia che ha fatto il giro del mondo, è finita su tutti i giornali, e è arrivata all'orecchio chiaramente dell'artista, perché l'artista ci ha lasciato nel 1990, longevoli, e questo li ha messi in una posizione un po' imbarazzante, chiaramente perché è un'opera d'arte, non puoi andare a modificare. Poi la fortuna chiaramente è dovuta al fatto che sono persone, se avrete modo di conoscere una volta che vengono in frioli, sono persone squisite, hanno un'eleganza cucita ad osso meravigliosa, quindi hanno trovato chiaramente il modo di gestire la questione. senza strappi, e questo ha permesso comunque di portare ancora più pubblicità. al luogo stesso, al friulani sono così, poi dopo quando vengono colpiti hanno questa capacità di sfruttare un po' la situazione, farne purché se ne parli, ecco diciamo così. È interessante questa cosa. Molto, molto, molto. È un'azienda ricchissima di questi aneddoti, tant'è che... E che anno era questo dell'importazione? No, 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 siamo verso la fine del 67-68. Ancora allora era considerata pornografia? Ma io quando la parlo magari con i turisti, no, americani, stranieri, la racconto sempre questa cosa, perché chiaramente poi dopo loro si sentono direttamente coinvolti, vengono fuori delle considerazioni meravigliose, anche di legislazione ancora tuttora in vigore, in alcuni stati degli States. Beh, sì, sì, assolutamente ancora puritane. Per esempio dieci giorni fa avevo un gruppo della South Carolina e loro mi dicevano che la domenica non possono acquistare vino. Possono acquistarlo il sabato e stappare la bottiglia la domenica, ma non possono assolutamente stappare la bottiglia, acquistarla la domenica perché è il giorno del Signore, no, eccetera, eccetera. Però lo possono bere. Però lo possono... Se acquistate sabato. Sai, un cartonato, no? Quindi corrono alle 11.55, aprono la bottiglia e la lasciano. Poi andare al supermercato, fare spesa, però quelle stesse bottiglie che potresti comprare tutti i giorni della settimana la domenica assolutamente ti ha preso l'acquisto, perlomeno. E magari i dati sono venuti, nanzi, da domenica. La cosa fa tanto ridere perché una delle loro etichette viene venduta al Papa stesso. È uno dei, diciamo, dei destinatari che se lo sta quando vuole. Non c'è un momento storico. Se è l'esponente massimo della Chiesa Cattolica, poi non si vede perché. Vengono fuori, no, no, ancora tutt'oggi ci sono delle legislazioni particolari. Beh, almeno comunque c'è sempre tanto da parlare dietro un'azienda che non è soltanto, insomma, l'aspetto di vino. Ma tornando al vino, colleghiamoci un pochino a quelli che sono gli aspetti produttivi aziendali di Col Santo. O meglio, quali sono i vitigni che coltivate? I vini, quindi i vini di punta dell'azienda Col Santo. Quindi la vendemmia, la vinificazione, la scelta degli emiti, barrique, botte, malolattica. Ecco, facci un pochino il panorama della filosofia produttiva dell'azienda Col Santo. Allora, consiglieremo innanzitutto quella che sono la tipologia di vitigni, no? Parliamo di 24 ettari di superficie vitata per quello che riguarda i vignetti immediatamente presenti sulla collina in cui sorge la cantina e i terreni immediatamente limitrofi. Poi, in realtà, da un paio di anni hanno preso in affitto altri tre ettari direttamente a Spoleto per quanto riguarda la coltivazione del treppiano. Nei 24 ettari di superficie vitata che interessano l'azienda e sono i vignetti storici in realtà, tra virgolette storici, parliamo di vitigni principalmente a bacca rossa. Loro erano interessati, no? Quando sono venuti in Umbria proprio alla bacca rossa e quindi parliamo principalmente di Sagrantino, San Giovese, Montepulciano e poi Merlot. Montepulciano lo utilizzano nel blend per fare l'altra grande etichetta, no? Rinomata della zona, quindi non soltanto Sagrantino e Montefalco, ma anche Montefalco Rosso e in genere è un blend che viene costruito attraverso 15%, no? Mai più del 15% comunque di Sagrantino, San Giovese, che fa un po' la parte grossa del taglio e in genere viene sempre messo Merlot, Cabernet Sauvignon, addirittura c'è chi mette Barbera. Loro preferiscono Montepulciano proprio perché se non riusciamo, no? A mantenere comunque il blend all'interno dei confini regionali, comunque in ogni caso riesci a tenerlo con un autoctono italiano senza dover per forza guardare un vitigno internazionale, che è una cosa che dà particolarmente noia per esempio agli anglofoni, quindi all'importatore che guarda paesi come Londra, Inghilterra in generale. Sistema di allevamento, parliamo di cordone speronato, doppio, incrociato. La cosa più particolare sicuramente è il numero, la densità di piante per ettaro, un numero un po' particolare nel senso che è un po' meno in linea con quello che è la tradizione umbra, che vira più o meno sulle 5200 piante per ettaro, qui viriamo tra le 7200 piante per ettaro. Pugliano, Bordolese, Borgognotta, un pochino strizza l'occhio quello che è la Francia in generale e hanno importato un po' di quello che è la loro cultura enologica e agraria, soprattutto perché poi su più o meno questi sono i numeri di cui si va a parlare. Quindi tanti soldatini a ranghi strettissimi tra una pianta e l'altra, visivamente fa anche un po' effetto la prima volta perché siamo abituati a maggior resio. Invece i talci praticamente quasi si toccano, potatura cortissima, questo fa sì che la pianta fittoni effettivamente vada in profondità, i terreni lì sono una piana, una lastra di argilla fondamentalmente e fa sì che la pianta sottoproduca. Quindi conteniamo le rese, in questo modo riusciamo a massimizzare, a concentrare al massimo quello che sono polifenoli, tannini, antociani, quindi pigmento e a rendere anche un pochino più malleabile il tannino prima ancora di raggiungere la lavorazione. Esatto, dopo per quanto riguarda le lavorazioni di cantina, loro chiaramente hanno un po' tutto in cantina, hanno tini d'acciaio, fermentatori d'acciaio, hanno le tonco coniche, hanno fermentatori in legno a temperatura controllata. Per quanto riguarda la maturazione, anche lì ce n'è da dire perché utilizzano sia la botte grande da 50 a 30 ettolitri, sia la botte piccina. Botte piccina utilizzano sia il legno francese, quindi di barrique classica portolese, sia il legno ungherese. C'è proprio scritto, impresso, e poi usano anche le ampore, quindi diciamo che un po' si investono tantissimo anche nella sperimentazione. Ok, no no, pensavo volessi fare una domanda sulla sperimentazione. Sono fermata perché vedevo delle facce a punto interrogativo. No, no, vabbè, io ho... Ma per me è sempre una lezione indiretta sul mondo del vino, quindi... Sì, no, infatti stavo pensando all'amfora, cosa ecco che ne avevamo già parlato quando sono venuta da te in azienda, e so che c'è qualcosa in fase, diciamo, di sperimentazione. Di cosa stiamo parlando? Sì, allora, forse anche a me la cosa che aveva colpito di più era proprio il Kleiber, perché ecco, non l'avevo neanche mai visto in vita mia. Diciamo che il Sagrantino, sì, è una storia antichissima alle spalle, però, quando parliamo della versione passita, no, perché è sempre stato interpretato anche per ragioni di conoscenza, di disponibilità, di tecnologia, no? Non avevano la capacità di tenere sotto controllo tutta quella parte tannica, erruente, nervosa all'interno del calice, del prodotto finale. Per cui, fino a poco tempo fa, questo era il modo in cui veniva venificato, veniva prodotto. La versione secca è una versione assolutamente recente, non ha chissà quanti anni sulle spalle, quindi aperta veramente la via alla sperimentazione per cercare di trovare il miglior modo per andare a raccontare il Sagrantino. Chiaro che utilizzare il Kleiber ci aiuta a salvare tutta quella che è la croccantezza un po' della parte fruttata, la freschezza della parte floreale, varietale, esatto, che tende un pochino a complessarsi in modo massiccio con passaggi abbastanza lunghi, in botte grande o in botte piccina, ancora a maggior ragione sulla botte piccolina, dove con la barricchia la lavorazione è molto più veloce. Comunque da disciplinare parliamo di 30-36 mesi, quindi sono passaggi abbastanza lunghi. All'interno dei Kleiber abbiamo... hanno fatto una sperimentazione con le anfore della ceramica di Deruta, no? Perché per provare, per tentare un affinamento... Anche perché siamo in Umbria, quindi proviamo. Il problema è che quando hanno inserito il Sagrantino all'interno già dopo pochi mesi l'anfora andava ad assorbire e non aveva capacità contenitiva, quindi già cominciava a cedere. Quindi avevano cominciato anche a sperimentare con dei rivestimenti, con delle resine, con dei smalti, vernici. Il problema è che utilizzare la resina è un rivestimento che va ad aromatizzare il vino, quindi il vino cominciava a prendere il sapore di miele, senza però essere amalgamato, ecco, non era molto naturale, sembrava aromatizzato a tutti gli effetti. Artefatto. Esatto. Invece il Kleiber è fatto di grass, quindi parliamo di una porcellana dove la polvere di grass viene sinterizzata, quindi viene sottoposta ad altissima temperatura, in questo modo viene sottoposta a questo trattamento termico che la rende solida, compatta e soprattutto la rende impermeabile. Quindi questo significa che io posso lasciare all'interno del contenitore il vino a nudo contatto, a diretto contatto con il materiale senza alcun rivestimento. Chiaramente la microossigenazione è molto più lenta rispetto alla botte, il valore aggiunto è che non beve tanto quanto la botte, anzi non beve assolutamente niente, una barrique delle loro in tre anni beve circa 90 litri, quindi è chiaro che tolgo quella problematica. La capienza più o meno siamo lì, perché quelle che hanno loro sono da 250 litri, quindi rispetto a una barrique sono 225 litri, cambia poco come concetto, però loro dovranno decidere sicuramente che cosa fare con questo sagrantino, all'interno abbiamo il 2016, quindi ancora una sperimentazione in atto, non esiste da disciplinare un 100% sagrantino di Ocigie, di Aie, e il sagrantino stesso è un vino che comunque vuole un po' il passaggio in legno, non parliamo di un Merlot, non parliamo di un vitigno, è decisamente più muscolare, ha bisogno comunque della morbidezza, della rotondità e di polimerizzazione. quindi magari pensate di fare un taglio con un sagrantino che ha fatto Cliver e un sagrantino che ha fatto legno. Il cantiniere è un cavallo impazzito, nel senso che poi lui è anche creativo, quindi ha tanta fantasia, ha tanta esperienza, circa 40 vendemmi alle spalle, per cui ha veramente tanta esperienza, però bisogna un pochino vedere quello che vorrà, sicuramente è molto probabile che farà un taglio, la parte della massa 2016 affinata in botte grande tagliata con una parte di sagrantino affinato attraverso Cliver, a quel punto hai un po' di tutto, dovresti, ma questo è un esperimento, quindi le risultanze finali le sapremo soltanto più avanti. Il sagrantino che fa Cliver mantiene quello che è il varietale, però comincia a strutturarsi, comincia a ammorbidirsi perché comunque la microosegginazione c'è e nel frattempo abbiamo quel sagrantino che obbligatoriamente, diciamo, proprio per la sua caratteristica di uva, di uva molto forte, molto tannica, fa questo passaggio in legno e quando pensi che magari potremmo essere magari i primi sperimentatori? Non prima della fine del 2020 perché la microosegginazione è veramente più lenta, lentissima, quindi siccome loro non hanno fretta o necessità di cavare via il vino dalle botti, di avere il prodotto finale in bottiglia, questo è un valore aggiunto perché questo ci permette di raggiungere qualità. Esatto. Dovranno decidere di concerto tra l'enologo e il cantiniere che sono un po' no? I, come dire, i direttori di orchestra, no? Esatto, esatto. Qui dobbiamo introdurre wine design spoiler, nel senso che segnatevi 2020 abbiamo già abbiamo già lo spumante di Cenci l'anno prossimo da provare con il Trebbiano e poi proveremo anche a Sagrantino siete i soli qui in Umbria? No, no, in realtà ci sono altre cantine sono mi pare un paio di altre cantine che tentano questa sperimentazione per fortuna perché Sagrantino secondo me ha bisogno un po' di riempire un po' queste pagine di sperimentare di tentare vale sempre la pena Sì, tra l'altro anche in Toscana se non ero stanno approvando tutte queste sperimentazioni con le anfore non rivestite la novità non è tanto l'anfora perché io parlando con alcuni cantini diciamo l'anfora è un prodotto che si usa da sempre da tanti anni diciamo in antichità però la novità sta nel non essere rivestito e quindi abbiamo un varietale che viene mantenuto e viene rispettato No, fa sempre tanto ridere anche quando si va al Vinitaly c'è un capannone intero dedicato un po' a quella che è l'attrezzatura enologica quando si passeggia per questo capannone quando vedi queste anfore che hanno anche le anfore verticali ce ne hanno in tutte le maniere adibite a fermentatori eccetera te ne parlano come l'ultimo rinnovato ecco il sintomo di progresso di modernità eccetera fa un pochino sorridere perché in realtà davvero è uno dei contenitori più antichi per affinare e maturare il vino la domanda dell'ignorante cos'è un varietale è praticamente quello che tu ti aspetti di trovare in un vino diciamo quelli sono gli aromi primari dell'uva quando magari non hanno fatto legno che tu ti aspetti magari di sentire che ne so in un sangiovese una rosa canina sai sono tutti come ti devo spiegare i profumi che derivano dall'uva che poi vengono resi percepibili soltanto a seguito di fermentazione nella stragrande maggioranza dei casi poi ci sono uve in cui quei varietali che sono principalmente fruttati e floreali sono percepibili anche direttamente mangiando l'uva l'uva moscato se la mangiamo scusati io rappresento la parte ignorante degli ascoltatori ma sono domande che abbiamo fatto tutti nella vita sto studiando mentre facciamo il programma beh a questo punto io passerei alla degustazione del Trebbiano col Santo che abbiamo nel 2017 allora Trebbiano vi dico subito perché loro non hanno mai prodotto vino bianco nella zona nelle due cantine dell'Italia centrale né in Toscana né in Umbria questo perché veramente hanno un numero di etichette importante su in Friuli con due cantine con tantissimi vitigni autoctoni per cui in realtà hanno ceduto alla pressione di diversi clienti e ristoratori che volevano vedere un friulano maneggiare un vitigno autoctono Umbro per cui hanno punzecchiati a dovere nel corso degli anni loro poi hanno raccolto la sfida sono venuti in Umbria hanno girato varie cantine anche perché sono in amicizia con diversi produttori hanno testato quello che sono gli autoctoni bianchi dell'Umbria e hanno virato sul Trebbiano Spoletino perché l'hanno interpretato come un vitigno un po' di rottura da un lato di rottura geografica e questo è testimone anche le ultime diatribe in corso rispetto a quello che è la classificazione e poi anche di rottura varietale perché è un vitigno che si distanzia tantissimo tra quello che è il Trebbiano Toscano e il Trebbiano Abruzzete è un vitigno molto particolare a livello genetico perché chiaramente soffre di questa seridità della gemma quindi ha bisogno vuole un tralcio una potatura lunga vuole poter sviluppare in lunghezza quello che è il tralcio per consentire alla pianta di essere produttiva chiaramente 7200 piante per ettaro non è una densità di allevamento idonea a questa tipologia di vitigno essendo una sperimentazione non potevano piantare immediatamente il vitigno quindi hanno preferito prendere in appitto tre ettari direttamente a Spoleto che è sicuramente una delle zone più vocate e lì viene impiantato proprio a doppia pergola proprio per consentire al tralcio di svilupparsi in lunghezza questo è proprio il primo esperimento un pochino il colore già ce lo dice che è un vino che non ha visto l'acciaio perché ha un'intensità marcatamente abbastanza importante all'interno della calice giallo paierino intenso che torna su note vira su note di oro oro freddo anche oro verde da qui il nome il colore del vino denuncia un pochino il motivo per cui hanno scelto il nome dell'etichetta un vino che te la racconta la luce il riflesso luminosissimo del calice da qui il motivo per cui la bottiglia è trasparente il vetro trasparente tutte le loro etichette tutti i loro prodotti la bacca bianca diciamo il vino bianco su in friuli vengono prodotti con la bottiglia scura assolutamente questo è l'unico prodotto per cui hanno scelto la bottiglia trasparente proprio perché è importante anche raccontare al tavolo subito quando viene stappata la bottiglia è bella da vedere è bello da vedere il riflesso importante sia in bottiglia che all'interno del calice questo è un lavoro un pochino più noiosetto per noi quando la vendiamo perché chiaramente poi dobbiamo andare a avvelinare tutte le bottiglie per porre al riparo il vino se non lo beve subito il cliente o il ristoratore chiaramente se non lo vende immediatamente al tavolo devi poterlo mettere al riparo da probabile ossidazione o doperimento per esposizione a fonte di luce naturale o artificiale poi leggo che in etichetta abbiamo un trebbiano che ha fatto il 14% il 14% denuncia è figlio della sua annata diciamo nel senso 2017 annata anche quella di Cenci era africana a tutti gli effetti quindi caldi importanti il sole morteva la giacchetta la sera non l'abbiamo mai mai messa è chiaro che tanto sole e tanto deposito di zucchero fino a un certo punto e poi perché quando esageriamo con l'esposizione solare poi alla fine cessa del tutto il deposito di zucchero diciamo che comunque ad ogni modo il trebbiano spolettino non è un vitigno che dà vita a vini tranquilli ecco le gradazioni alcoliche sia per il grecchetto o per il trebbiano in Umbria sono sempre esuberanti a tutti gli effetti è un vitigno che dà vita a vini che hanno una spiccata personalità un'acidità un erboacido importante esuberante c'ha tanta vemenza a livello di acidità c'ha una dinamica gustativa anche piuttosto articolata e sicuramente caratterizzato dal fatto che può esprimersi in modo diverso a seconda dello stile del produttore e quindi è il motivo per cui abbiamo in Umbria diverse espressioni di trebbiano spolettino a seconda che faccia macerazione a seconda che venga lavorato con fermentazione in botte in questo caso e qui il colore ce lo racconta non ha mai visto l'acciaio ha fatto fermentazione direttamente in botte da 22 tolitri con controllo delle temperature chiaramente la fermentazione a bassissima temperatura parliamo di 13 14 gradi questo ci consente di avere una fermentazione un momento fermentativo molto lento molto lungo questo ci consente di sviluppare una complessità aromatica una complessità di profumi e quindi parliamo di sosta sulle fecce fini parliamo di sosta tanto batonage questo significa che il vino si è complessato a livello olfattivo gustolfattivo perché chiaramente in autolisi il lievito che fa deposito sul fondo della botte con questa autodigestione cede sostanze aromatiche i zuccheri che aveva stesso o i saccari di brava e quindi hanno proteine e questo dà un valore aggiunto a quello che è sì la complessità aromatica ma avremo maggiore morbidezza maggiore rotondità e maggiore stabilità perché poi è quello che ci interessa la stabilità del vino e le capacità evolutive nel corso del tempo fatto che è un vino che non teme il tempo il tempo ma ha fatto malolattica questo bianco chiaramente no ha fatto malolattica cosa significa malolattica per gli ignoranti che batonaggio l'ho imparato la volta scorsa ogni volta sta facendo un microcorso sì faccio un microcorso in diretta cosa vuol dire quindi allora praticamente dopo la fermentazione alcolica con il rialzo delle temperature più o meno nel mese di aprile stiamo parlando generalmente attraverso l'uso di batteri lattici si induce la fermentazione malolattica talvolta parte proprio spontanea in realtà che ti consente di convertire l'acido malico che è un acido veramente superante uno degli acidi più importanti presenti all'interno del vino in acido lattico quindi tu vai a convertire acido in acido quello che otterrai sarà sempre una parte acida però l'acido lattico è certamente più morbida più rotonda e questo ci consente di avere dei vini un pochino più complessi un pochino più importanti anche più inclini a quella che è l'evoluzione nel corso del tempo esatto qualcuno che un po' critica l'uso della malolattica che poi come ha detto lei a volte parte spontanea perché si pensa che sui bianchi possa renderli un po' grassi in bocca rispetto ai bianchi smorzando questa magari la potenza acida la potenza fresca di un di un bianco però in questo caso noi abbiamo fatto già qualche assaggio effettivamente questo vino è freschissimo e c'ha questa parte sapida sul finale che è veramente a mio avviso molto elegante questo lo percepisco anch'io che sono totalmente fuori è una considerazione importantissima perché bisogna sempre avere presente il vitigno che vai a maneggiare quindi la malolattica non è fatta per tutti i vitigni e il trebbiano devo dire che è un vitigno che ha una quantità un erbo acido spiccatissimo quindi ben si presta questa tipologia di lavorazione chiaro che come tutto se non conosci quella che è la fisica la chimica la genetica del vitigno della fermentazione delle strumentazioni di cantina che vai ad impiegare per la trasformazione o per la compressazione del tuo vino puoi avere risultati più o meno apprezzabili lo stesso uso del legno è molto pericoloso per quello che sono i tempi odierni e il gusto attuale dove si vuole sempre ormai sentire la digeribilità la facilità la immediatezza del vino tant'è che loro su in friuli nei loro bianchi hanno dei bianchi de cru diciamo molto più complessi molto più massicci e poi hanno la linea classica dove sono tutti 100% mono vitigni e 100% acciaio e non vedono il legno riservano il legno soltanto nel caso in cui vogliono dedicare una lavorazione un pochino più complessa è chiaro che il controllo delle temperature diventa fondamentale altrimenti andiamo a fare quello che succedeva negli anni 80 90 quindi ecco sentori un po' barricati legno 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 andava omologare anche un po' il gusto certo perché tu comunque avevi un vino che avendo fatto legno magari di primo passaggio andava a caratterizzare così tanto il vino che tu non riuscivi quasi più ad andare a riconoscere le varietà dell'uva assolutamente ma questo sta anche all'eleganza del produttore sì 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 allo stile proprio ho imparato due cose fighissime malolattica e varietà ma guarda che malolattica te l'avevo già spiegata in una delle primissime puntate io ero spettatrice ricordo che lei aveva assolutamente spiegato tutto perché si può imparare tutto però sono concetti anche un po' complessi quindi magari ha fatto un ripasso sì sì no no comunque è vero io da ignorante della materia sento la freschezza anche la sapidità e ho imparato anche che Eliana appena finisci il bicchiere lo riempie di nuovo anche se sono solo le 4 e 40 questa è una fortuna questa è deformazione professionale capito qui si mette malissimo il poveriggio quanti gradi ricordiamo 14 14 gradi benissimo no no è un duro lavoro ma qualcuno lo deve fare tra l'altro Eliana abbiamo ancora 7 minuti quindi non so come vuoi chiudere questa bellissima intervista che una quantità di informazioni allucinanti Elisabetta per me veramente è fantastica perché è una persona che riesce a esprimere bene in modo semplice ma diretto pulito genuino intellettuale quello che è il concetto del vino poi una puntualità precisa su tutta la descrizione un pochino io per lavoro sono chiamata nella comunicazione proprio ad abbassare un po' i toni quindi a togliere un po' quella che è i tecnicismi per poter rendere comprensibili per poter rendere comprensibili a tutti certi concetti che sanno essere un pochino difficili se vai a utilizzare un vocabolario eccessivamente tecnico eccessivamente complicato ecco che vedi le teste che esplodono e la noia al tavolo chiaramente la comunicazione importante deve modularsi a seconda di chi ai davanti loro sono molto felici del risultato perché chiaramente non non potevano cedere di un passo anche in questo caso aspettavano tutti di poterli criticare in qualche modo non potevano chiaramente soprattutto con una vitigno vacca bianca sono stati molto contenti del risultato tant'è che quella che doveva essere soltanto una sperimentazione è stata proprio subito commercializzata una affermazione diciamo la domanda è perché poi non il grechetto e sì il trebbiano ma da un lato è un fattore di quello che è la adesso mi fai sbilanciare mi fai sbilanciare allora la la due ordini di motivazioni proprio per essere sinceri a tutti gli effetti da un lato hanno ritenuto che il trebbiano spoletino abbia una capacità espressiva più in linea con quello che sono gli obiettivi che volevano raggiungere soprattutto con lavorazioni in legno così lunghe qui abbiamo tanto nervo acido abbiamo freschezza c'è il fiore c'è il frutto c'è l'ananas c'è la buccia d'arancia fiore va tutto sul fiore di sambuco sulla camomilla però già denuncia anche con tutto questo riflesso l'acidità che sentiremo al palato tant'è che la beva è glicerita c'è glicerina è morbida è avvolgente però c'è sempre la schiena dritta c'è sempre acidità che ci aiuta a tornare a bere la spalla acida che è molto invitante direi che è pericoloso è pericoloso il classico vino ha azzeccato assolutamente considerando i 14 gradi questo vino si fa bere allegramente insomma lo concordo poi quando ti alzerai in piedi ti renderai conto che non era troppo tranquillo troppo facile l'altro fattore è dovuto al fatto che il trebbiano spoletino a tutti gli effetti sta vivendo una primavera una rinascita una rinascita a livello comunicativo a livello conoscitivo questo perché comincia ad essere comincia ad esserci un focus proprio su questo vitigno che gli consente anche di essere raccontato anche al di fuori dei confini regionali a differenza un pochino del grechetto al di fuori dell'Umbria raccontare il grechetto diventa già un pochino più difficile rispetto al trebbiano spoletino e loro sono un'azienda che non può naturalmente fermarsi a quello che è il confine Umbro non si è mai fermata al confine Fulano considerando che da frio ha un parterre ecco abbastanza trasversale abbiamo gli ultimi tre minuti senti ci vediamo a Vinitaly dove vi troviamo e soprattutto chi troviamo a Vinitaly allora Vinitaly appuntamento tanto atteso forse è la vetrina più importante dell'anno anche la più impegnativa ci trovate Padiglione 6 che è un padiglione dedicato a Friuli e Trentino Alto Adige principalmente lo stand è tutto Livon tutto loro B8 e trovate tutti in realtà perché tutta la famiglia è completo quindi due titolari Tonino Valneo la moglie di uno dei titolari Rossella che è un pilastro una colonna portante anche per la conduzione familiare dell'azienda e poi troverete sicuramente le nuove generazioni i figli dei rispettivi fratelli quindi Francesca Livon e Matteo Livon troverete sicuramente me troverete il loro enologo Rinaldo Stocco Michele Italiani direttore commerciale gli agenti mi sembra quei discorsi da Oscar ho paura di dimenticare qualcuno perché sono tantissimi l'organigramma è chiaramente un'azienda strutturata perdonate se ho dimenticato qualcuno ah sì sicuramente i responsabili export guarda che questo arriva la telefonata i responsabili export Maurizio Dalmasson Cristian Patrizzi Cantiniere Renato Cozzarolo domani mi arriva 200 telefonate perché ho dimenticato sicuramente e comunque voglio la pace nel mondo eccetera eccetera vi ringrazio per questo Oscar senti ma c'è anche Col Santo io sarai venita lì sì tutti sempre nel reparto diciamo all'interno dello stand Livon si possono assaggiare tutto Borgo Salcettino quindi anche Chianti anzi quando vuoi venire a Chianti assolutamente organizziamo attenzione ti ospito volentieri caramba no no se volete venire a visitare l'azienda Radda in Chianti hanno un'azienda meravigliosa completamente diversa è più cascinale è più completamente diverso anche lo Skyline cambia tantissimo è bellissimo fare la differenza quindi vi ospito quando volete mi piacere sicuramente dobbiamo chiudere abbiamo gli ultimi pochi secondi io vi ringrazio per l'ospitalità per l'accoglienza caldissima un contesto meraviglioso grazie Elisabetta per essere venuta qui ci rivediamo per lo spoiler la prossima volta sì per il 2020 mi dimenticate grazie a tutti grazie a Col Santo grazie al Trebbiano Spolentino con la sua bellissima spalla acida grazie a Nicola grazie a Istituto sui canali Facebook Instagram iTunes Spotify ovunque praticamente YouTube anche ciao grazie ciao